infiammazione cronica silente è una componente cronica in cui le citochini infiammatori invece che risolversi nel giro di qualche giorno massimo qualche settimana si protraggono nel tempo chiaramente tutto questo alimenta una serie di patologie solitamente sono le patologie croniche tipo le cardiovascolari le autoimmunitarie le neurodegenerative dove tutta una serie di fattori epigenetici vanno a chiaramente peggiorarne la situazione cosa poter fare chiaramente dobbiamo agire a livello di dove nasce questa infiammazione e di conseguenza è molto importante utilizzare una serie di sostanze che migliorano diciamo l'infiammazione danno l'ossigeno antiossidanti che riducono stress ossidativo complesso di vitamine come ad esempio anche il complesso same che chiaramente va a diminuire quella che è l'omocisteina che è uno dei fattori anche dell'infiammazione cronica silente e magari anche aggiungerci degli omega 3 sotto forma sia di integratori oppure aumentare con il consumo alimentare tipo pesce noci e semi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti